Onorevole Guidesi, prego. Grazie Presidente. Vede, oggi credo che sia una novità e creiamo un precedente per lo meno per quest'Aula, perché oggi discutiamo il primo decreto da campagna elettorale, una nuova invenzione del Presidente del Consiglio, il quale ricordo che all'interno di quest'Aula disse la linea la chiediamo a chi è stato eletto, dando per scontato un rapporto di collaborazione con il Parlamento, con la sua maggioranza, comunque con tutto il Parlamento e dando per scontato il fatto, più volte ha anche detto, che non avrebbe fatto decreti omnibus, che non avrebbe messo fiducia e che avrebbe utilizzato per cui il rapporto con il Parlamento in funzione collaborativa e anche propositiva. Invece noi oggi ci troviamo a valutare un decreto che praticamente è una vera e propria finanziaria, poiché vale 18 miliardi di euro e questa vera e propria finanziaria non è stata discussa dalla Commissione Bilancio. La Commissione Bilancio non ha avuto l'opportunità di discutere gli emendamenti, la Commissione Bilancio non ha avuto il tempo di valutare il testo, la Commissione Bilancio ha semplicemente preso atto che la maggioranza e il Governo avevano deciso di non cambiare niente rispetto a quello che è uscito dal Senato e al poco modificato dal Senato, di prendere atto di quello che è stato e di rifiutarsi indignitosamente di lavorare e di fare un dibattito serio. Perché c'era una campagna elettorale da affrontare, questo è stato il decreto per la campagna elettorale del Partito Democratico che nessuno poi mette in dubbio il fatto che abbia funzionato, dimenticandosi però di alcune situazioni iscritte nel decreto. Situazioni che sono state sollecitate, dubbi che sono stati sollevati dai centri studi di Camera e Senato, dai funzionari del bilancio e noi non siamo riusciti ad avere dal Governo una posizione ufficiale sulle coperture, una garanzia sulle coperture che venivano contestate non dall'opposizione ma addirittura dai funzionari stessi. All'interno del decreto però troviamo coperture certe e sicure come quelle, ancora una volta, del taglio alle regioni, ai comuni, alle province, alle amministrazioni e anche all'amministrazione statale, l'innalzamento dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Il Partito Democratico finalmente è riuscito a fare la sua patrimoniale ma noi all'interno di questo decreto troviamo addirittura l'autorizzazione per ulteriori emissioni di titoli di Stato fino a 40 miliardi di euro per il 2014. Ci possiamo oggi dire tranquillamente che il debito pubblico aumenterà ancora. Una vera e propria patrimoniale fatta, dimenticata dalla campagna elettorale ma iscritta all'interno di questo testo come copertura perché il Partito Democratico e il Governo hanno deciso di tassare i risparmi degli italiani aumentando l'imposta sui redditi dal 20 al 26% di tutti i redditi. Questa è una vera e propria patrimoniale. Dal 1 di agosto ci sarà il prelievo sui prodotti da fumo, il contributo per il rilascio del passaporto passa da 40,29 euro a 73,50 euro. Nell'articolo 6 il Governo si impegna addirittura a recuperare dall'evasione fiscale nel 2015 2 miliardi in più di quanto recuperato nel 2013. L'articolo 8 contiene i tagli alle amministrazioni, 2 miliardi e 100 milioni per tutto l'anno, di cui così ripartiti 700 milioni alle regioni, 340 milioni a province e città metropolitane e 360 milioni ai comuni. Il taglio, oltre ad essere permanente, solo ed esclusivamente per le amministrazioni locali e regionali e dal 2015 sarà quasi il doppio, 1 miliardo e 50 milioni per le regioni ed altrettanti per le autonomie locali. Qua vorrei capire chi è stato sindaco e oggi fa parte dell'esecutivo, che intenzioni reali ha o se si sia completamente dimenticato delle difficoltà che ci sono nell'amministrare i comuni. C'è il limite di 240 mila euro lordi di stipendio per i pubblici dipendenti e per i personali delle società partecipate, limite sul quale noi abbiamo proposto e volevamo anche fare molto di più parificando questo stipendio e lo stipendio dei parlamentari. Nell'articolo 22 introdotto dal Senato vengono destinati 75 milioni per il 2015, 100 per il 2016 per le zone franche e urbane, che ovviamente sono quasi tutte al sud, tranne Ventimiglia e Massacarara. Qui ricordo al Governo che noi avevamo proposto di creare una zona franca sulle aree terremotate dell'Emilia e questa proposta ci è stata bocciata. In un altro articolo mettete a disposizione 2 miliardi per gli enti locali per favorire il pagamento dei debiti delle loro partecipate, considerando, si noti all'interno dell'articolo però, che le società che ricevono questi soldi devono destinarli solo prioritariamente all'estinzione dei loro debiti e non esclusivamente, per cui c'è il rischio che qualcuno non risolva i propri problemi. Nell'altro articolo si rifinanzia di 6 miliardi il fondo per i pagamenti dei debiti di regioni e denti locali, compresi ovviamente i debiti fuori bilancio e compresi gli enti in stato di predissesto, per cui un altro aiuto a coloro i quali hanno amministrato in maniera irresponsabile. Il decreto introduce inoltre la novità che le regioni sottoposte a piani di rientro commissariate possano tranquillamente accedere alle anticipazioni di liquidità e che una quota di 300 milioni, non più 100 come era prima, delle anticipazioni sia riservata ai comuni in completo dissesto. Questo è un ulteriore quadro, non detto, di quello che c'è dentro in questo decreto, che non è stato discusso all'interno della Commissione e dall'Aula, non solo per la tempistica, perché la tempistica c'era e l'avevamo anche calendarizzata nel primo ufficio di presidenza della Commissione bilancio, ma non è stato discusso proprio per evitare che uscissero alcune cifre. 40 miliardi di nuovo debito pubblico noi vorremmo capire, visto che c'è scritto ed è stato decretato, quale tipo di reazione ha avuto o ha l'Unione Europea rispetto a questa situazione, come verrà gestita all'interno del semestre dell'Unione Europea, perché le cifre, i dati ci dicono che da quando il Partito Democratico governa l'aumento c'è stato rispetto al debito pubblico, alla disoccupazione e alle tasse, se fate un piccolo conto spannometrico. Avete creato una confusione totale rispetto alla finanza locale, sia per i cittadini contribuenti che non capiscono più cosa, quando e dove debbono pagare, ma sia anche per gli amministratori locali che non sanno come gestire i propri bilanci. E la sorpresa è che queste cose le hanno fatte ex amministratori locali. E noi vi chiediamo continuamente di applicare il federalismo fiscale, proprio per evitare quello che voi avete scritto nel decreto, per cui sostegno continuo e automatico a coloro i quali hanno dissestato le proprie amministrazioni, e soprattutto per verificare la virtuosità in maniera trasparente dei singoli amministratori. Suggerimento ad oggi completamente inascoltato, come inascoltato probabilmente è il fatto che voi, avendo in mano, voi governo avendo in mano la delega fiscale, potreste tranquillamente, visto che non considerate i dubbi sulle coperture e le criticità sulle coperture, considerare il fatto che probabilmente un vero e proprio shock dal punto di vista fiscale sarebbe utile davvero alla crescita di questo strano Paese. Per vero e proprio shock noi intendiamo un'unica tassa, una semplificazione della finanza locale. Siamo in attesa di queste proposte da parte vostra, visto che la delega ce l'avete voi, ma noi ci occuperemo di proporre sicuramente un testo sul quale confrontarci. Noi vi chiediamo di ascoltare i nostri suggerimenti e di poter dibattere, perché voi non commettiate lo stesso identico errore che avesse commesso con l'operazione Mare Nostrum. Ve l'avevamo ampiamente detto più volte, anche in maniera dura, che quell'operazione era un totale suicidio per la gestione sociale e civile di questo Paese. Oggi vi trovate in una situazione che non sapete più gestire tutti i flussi migratori. Oggi vi trovate in una situazione che neanche coloro i quali potevano o sono interessati alla gestione di questi flussi migratori non sono più in grado di farlo. Proprio per questo, e chiudo, noi ribadiamo l'invito al Presidente del Consiglio a venire in Aula e a dirci qual è la posizione del Governo rispetto all'operazione Mare Nostrum e ai flussi migratori. Perché negli ultimi 15 giorni abbiamo trovato vari esponenti dell'esecutivo che dicono estremamente cose diverse l'una dall'altra. Non abbiamo capito effettivamente qual è la posizione del Governo. La chiediamo al Presidente del Consiglio che da quando si è insediato non ha speso una parola per l'operazione Mare Nostrum proprio perché forse in campagna elettorale non conveniva. Grazie.